Oggi vi vorrei parlare un attimo delle fondazioni lirico-sinfoniche. In questi giorni mi sto occupando di diverse di loro. Oggi ho avuto un incontro con la sindaca Appendino e i responsabili del Teatro Reggio di Torino. Nei prossimi giorni avrò un incontro dove invece parleremo di Genova. Negli scorsi giorni mi sono occupato del Teatro di Cagliari e dell'Arena di Verona. Quindi diciamo che è un po' di tempo che il tema della condizione e delle prospettive della lirica in Italia e del supporto che gli può dare il Ministero è qualcosa che è molto alto nella mia lista di priorità e merita una grande attenzione. Non c'è bisogno di ricordare che la lirica italiana è un vanto per il nostro Paese. È qualcosa che dobbiamo preservare e dobbiamo assolutamente aiutare a raggiungere dei livelli di qualità ottimi a livello globale e rendere il più possibile accessibile ad un vasto numero di persone. Contemporaneamente dobbiamo anche ricordarci che la situazione delle fondazioni lirico-sinfoniche non è stabile. Come ho avuto modo di parlare durante la spiegazione delle mie linee programmatiche, uno degli obiettivi che mi sono posto è quello di mettere questo sistema in una condizione stabile. In poche parole avere una relativa sicurezza, ragionevole sicurezza di quelle che sono le entrate e le uscite, lavorare bene nel tempo, offrire una produzione di qualità e non dover sempre gestire le varie emergenze che di volta in volta possono nascere sul territorio italiano. Per fare questo penso che si è giunto il momento di affrontare il mondo delle fondazioni liriche o sinfoniche non solo dal punto di vista dell'emergenza ma dal punto di vista della struttura. Ed è per questa ragione che penso che uno strumento fondamentale per andare in questa direzione è quello di chiedere alle fondazioni di elaborare, di essere molto precise nella definizione di un piano industriale. Il piano industriale è uno strumento fondamentale per capire se una fondazione lirico-sinfonica può avere un futuro di successo, un futuro che garantisca il lavoro delle persone che ci lavorano ma soprattutto anche la sua presenza, la qualità, l'eccellenza che riesce a offrire attraverso gli spettacoli e attraverso le produzioni. E questo piano naturalmente deve essere credibile nei numeri, chiaro nella visione strategica e deve avere anche un'affidabilità nella motivazione che chi l'ha costruito e chi poi sarà chiamato a realizzarlo ha nei confronti del Ministero ma soprattutto delle città e dei territori dove la fondazione lirico-sinfonica lavora ed esiste. Il Ministero non farà mancare il proprio supporto alle fondazioni lirico-sinfoniche, ci mancherebbe altro. L'importante però è che questo supporto sia stabile nel tempo in modo da superare le emergenze e di andare verso una situazione di sicurezza con dei partner e anche delle fondazioni che hanno una loro credibilità, che hanno una visione strategica e che sono in grado di garantire un equilibrio economico in modo da renderle stabili e di successo nel corso del tempo. Ve lo volevo raccontare perché questo è uno dei temi di cui avrete modo di sentirci nelle prossime settimane perché sarà una delle nostre aree di priorità. Buona giornata a tutti!